Le esigenze degli universitari all'estero, l'Erasmus, si apre anche agli studenti disabili. L'Ateneo di Sassari ha partecipato al Bando Nazionale in linea con un impegno che va avanti già da anni, come ci spiega Mario Moss. Già prima in Italia per le dotazioni finanziarie destinate agli studenti dell'Erasmus, l'Università Turritana ha aderito subito all'iniziativa ministeriale per favorire l'accesso anche ai portatori di disabilità. Poter estendere questo agli studenti disabili coniuga due esigenze molto grosse che abbiamo all'interno della nostra università. Da una parte l'internazionalizzazione e dall'altra parte la possibilità di aprire l'università a tutti quelli che realmente vogliono avere accesso all'istruzione, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno le possibilità di accedere all'università fisicamente o per altri motivi. Il Bando si inserisce in un panorama in cui l'Ateneo Sassarese ha già compiuto sensibili passi avanti. Posso citare che anche a settembre abbiamo aperto la biblioteca Piglieru a tutti gli studenti e non solo gli studenti ma anche a tutta la cittadinanza con disabilità. Quindi questo intervento si colloca in una linea generale che è quella dell'attenzione a tutti gli studenti, i cittadini che hanno difficoltà. La scadenza per partecipare è fissata all'11 settembre. I disabili iscritti all'Università di Sassari sono 324 e rappresentano quasi il 3%.